Buongiorno amici, benvenuti in questo video direttamente dalla mia camera, infatti anche se è un luogo che in realtà non vedete quasi mai ci passo tipo il 90% della mia vita, faccio quasi tutto qui, edito i video qui, faccio cose qui ed è un pochino il mio mondo e come avete visto dal titolo, in questi giorni la sto un po' trasformando, la sto un po' stravolgendo perché in realtà è una cosa che dovrei fare tipo da anni, mesi, è solo che sono sempre pieno di cose da fare per cui dato che è un po' di tempo libero da mesi a sta parte, finalmente possiamo fare queste cose c'entra con la pizza? No! Vi interessa? Probabilmente no! Lo faccio lo stesso? Chapeau! Tra l'altro si può dire che l'acquisto più importante che diciamo rivoluzionerà tutta la mia camera l'ho fatto già ieri, non vi ho portato con me perché ho pensato oggi al video e al fatto che avrei potuto fare un video quest'oggi vado a comprare altre cose, l'IKEA, per cui diciamo che vi porto con me, vi faccio vedere un po' la ristrutturazione della camera che poi ovviamente non è che faccio chissà che, cioè molto scialla anche perché, cioè comunque lo scheletro rimane questo però mi fa piacere condividere con voi qualcosa di mio tra l'altro anche se forse avete già visto la mia camera in qualche video, in qualche live, ovviamente in sfondo ve la descrivo brevemente anche perché ovviamente è una camera, non è che ci sia troppo da descrivere però almeno vi facciamo tipo un prima e dopo comunque questa è la camera, lì ci sono i letti, tra l'altro scusate la confusione perché ovviamente è tutto un po' sotto sopra questa è la parte dei letti, ovviamente la camera era mia di mio fratello finché lui non si è trasferito a Pisa per cui da qualche anno a sta parte si può dire che è praticamente mia ma non mia questa è la parte dei letti, sopra poster di serie tv che ho amato questa è la parte operativa, scrivania, playstation perché ovviamente sono un ragazzo e ci vuole tutta roba tipo oggettistica varia che amo tra l'altro un pezzo tipo, anzi due pezzi rarissimi che sono parte di un repertorio questo divano che in realtà è da qualche anno che è temporaneo però vabbè lo utilizzo un pochino per buttarci cose luci, cose per fare i video che giustamente sono un po' varie e qui c'ho tipo il mio armadio abbastanza grandino con un altro mobile Ikea altre cose super ammassate perché devo sistemarle e sono qui tipo da un anno che devo sistemarle vabbè, altro pezzo super raro fatto firmare, qualche poster e la mia camera si conclude qui tra l'altro come detto sono davvero tantissimi mesi che ho il desiderio di finire diciamo la camera o meglio di fare qualche modifica ovviamente la camera ci ho abitato benissimo sempre in gran disordine perché fa parte di me però diciamo che comunque ovviamente non è che sia proprio da ristrutturare tra l'altro per ricollegarmi a tutto ieri quindi giorno meno uno ho comprato il letto, il letto, che sostituirà questi due oggi dovrei comprare altre cose, dovrei riverniciare, spostare cose ci vediamo tra poco let's go acquistiamo cose andare all'Ikea mi devasta e ora mi tocca pure scaricare ora non per dire ma lì che è tipo infinita per cui visto che sono davvero cotto anche se ho lo scaffale, la cosa qui da montare ci vediamo domani che tanto tutto il giorno libero montiamo questo, spostiamo, vediamo, facciamo cose giorno 2 oggi ho tutta la giornata libera per cui dovrò sfruttare tutta la giornata ma prima colazione buona colazione tra l'altro non mi ero accorto ma mi è arrivato pure un pacco Amazon che c'entra col tutto ok, non so se iniziare provando a smontare da solo il letto che devo smontare o se iniziare a montare la mensola non so cosa sia più conveniente vediamo ho smontato da solo il letto mamma mia e l'ho anche spostato via tutto da solo sono un cacchio di maciste no scherzo ho fatto una fatica direi che posso iniziare a montare la mensola a sto punto tanto quel letto aspetto qualche giorno a smontarlo e yeah a noi due perché sono due scatole tra l'altro penso che vi timelapso tutto quanto almeno vedete tutto velocemente tenden 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 ho appena finito è stato un parto mamma mia far queste cose da solo mai più mai più ci ho messo due ore è l'una è tre minuti ci ho messo tipo due ore mamma mia ora mangio ok direi che è arrivato il momento di spostare il letto è la cosa che la libreria che ho appena assemblato vediamo anche questa è fatta piano piano la sistemerò l'unico problema sono un po' le misure che ho preso male ma speriamo in bene ci vediamo nei prossimi giorni con aggiornamenti sto andando a prendere il letto non monterò mai più niente in vita mia è stato un parto non ho registrato perché ho bestemmiato ok amici vi avevo fatto vedere appunto che ho terminato la camera più o meno mi mancherà verniciarla ma quello magari ci faccio un altro video e durante le riprese se non erro vi ho fatto vedere un pezzo della collezione tipo super raro super figo orgoglio personale ovvero è lui bene negli scorsi giorni ho partecipato a un'asta io ho preso un altro pezzo diciamo la collezione visto che mi è arrivato oggi ve lo faccio vedere anche perché ci tengo a ringraziare personalmente Carmine che sostanzialmente è la persona che ci fornisce questi oggetti che è un gruppo facebook ve lo lascio in descrizione perché merita e in tutto ciò non mi paga anzi sono io che pago le cose però davvero è super professionale soprattutto ho una garanzia imballa da dio arriva tutto subito spedisce subito robe perfette per cui se vi interessano cose autografate in generale qualsiasi cosa se siete un po' collezionisti fateci un salto perché merita e adesso apriamo insieme questo pacchetto che mi è appena arrivato appunto perché si yeee tra l'altro adesso non per spoilerare ma mi stavo per aggiudicare un funk o pop autografato da Michael J. Fox l'attore di Ritorno al Futuro a Marti però l'asta stava sfuggendo di mano e ancora sono abbastanza povero per ste cose tra l'altro vi censuro un po' tutto però vi faccio vedere che è tipo un botto impacchettato bene 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 è un tipo super emozionante vediamo se riesco a togliere altra carta giustamente anche perché sono pezzi comunque rari unici certificazioni di qualità degli autografi di autenticità eccetera e questo ragazzi è il pezzo che mi è arrivato Beef Tannen autografato dall'attore quindi da Tom Wilson mamma mia sono una Pasqua come vedete messo tipo da dio infatti anche il grado di valutazione è altissimo e niente nuovo pezzo bene amici stavo editando il video video che tra l'altro diciamo quella serie di video l'ho registrati più di un mese fa era tipo erano i primi di giugno anzi era metà giugno quindi siamo oggi giorno 8 agosto sono passati tipo due mesi solo che appunto sono stato super impegnato soprattutto con l'esame di stato quindi era un video che ovviamente ho lasciato un po' indietro appunto editandolo mi sono accorto di non aver fatto un vero finale non ho registrato un vero finale comunque sia la camera l'ho lasciata praticamente così ho sistemato solo alcune cose e mi mancherà ancora da verniciarla perché non c'è stato verso e dovrò ancora attaccare i led i led per tutta la stanza cosa che farò ovviamente in futuro in realtà stavo pensando che la potrei fare lo stesso prima di verniciarla ancora non l'ho fatto sono passati due mesi vedremo sicuramente magari vi faccio un video aggiornamento comunque sia spero che questo video totalmente diverso dal solito perché sono una serie di video che raccontano un pochino più me e meno la pizza anzi la pizza niente però spero che comunque vi siano piaciuti spero che vi possa piacere questa serie di video un po' così ora sono tra l'altro sul mio letto spero appunto che vi possa non piacere in caso ovviamente intervallati ogni tanto non sostituiranno i video di pizza però li farei anche abbastanza volentieri su un video che mi piace fare per cui mi raccomando fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate in generale o commentate dicendomi quello che vi va e soprattutto fatemi sapere se volete tipo la parte 2 quando magari finisco di sistemarla per bene organizzo tutto vi faccio un room tour non lo so vabbè vediamo per l'appunto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti per vedere video così e soprattutto pizze soprattutto pizze e niente ci vediamo presto con un altro video con tanti altri video e qua da Johnny è tutto ciao a tutti ciao a tutti